Manca oramai meno di una settimana ad Halloween. Hai già il costume, vero? Se stai cercando qualcosa da fare il 31 ottobre a Londra ed hai voglia di festeggiare fino a tardanotte e di ballare, ecco per te 5 parti da non perdere per Halloween 2016. Ministry of Sound Halloween Rail 2016. Si terrà il 31 ottobre. La famosa discoteca Ministry of Sound ha organizzato un rail party imperdibile 10 DJ a suonare musica house e non solo in grado di risvegliare i morti. Troverai mura insanguinate, vedrai ballerine zombie, ci saranno tantissimi effetti speciali e luci stroboscopiche. Pare proprio che si annunci una festa davvero infernale ed il costo del biglietto è di sole 11 sterline. Stranger Things. Si terrà anche questo il 31 ottobre. Visto il successo della serie Netflix, che spero davvero tu abbia visto, non poteva mancare un party a Londra basato su Stranger Things. Aspettati musica anni 80, mannaie, strane sparizioni in mostri sbucati da universi paralleli. Mi raccomando, se ci vai e sei una lei, sfoggi il tuo miglior costume da 11 e sfida la sorte con questo evento ospitato dal The Garage in due serate. La data del 30 ottobre è già sold out, ma forse sei sempre in tempo per trovare un biglietto per il 31. Non si sa mai. Il costo? 10 sterline. The Nest Halloween. Si terrà il 31 ottobre. Anche al The Nest di Dullstone si festeggia Halloween con un party da paonura in cui non mancheranno luci fantasma, pozzani risangue, laser paurosi e anime da poco ritornati in vita e magari non troppo di bell'aspetto. Ovviamente è inutile dirlo, non mancherà la musica. Il biglietto costa solo 8 sterline. Halloween Zombie Pub Troll. Si terrà il 31 ottobre. Indossa la tua migliore maschera da zombie e vai con gli amici allo Zoo Bar di Lace Square. 5 bar, 4 shot gratuiti e altre promozioni per cocktail sono inclusi nel biglietto che costa 25 sterline. Alla fine della serata sarà anche letto il miglior costume che sarà premiato con un regalo fighissimo. Buffy, the vampire slayer. The bronze is back. Dal 28 al 30 ottobre. Dici la verità, non ti manca nemmeno un po' Buffy l'ammazza vampiri? Questa è l'occasione buona per rivivere i migliori momenti della serie tv anni 90. Ma dal vivo, entrambi i piani del Berizzi ad Acne saranno allestiti come il The Bronze, il locale che nella serie era il covo dei cattivi. Potrai quindi partecipare ad una maratona di danza, scatenarti al karaoke o prendere parte addirittura ad un talent show con tanto di musica ed ovviamente alcol. E chissà, magari potrai incontrare la tua Buffy o il tuo Spy. Cosa aspetti? Il biglietto costa solo 8 sterline. Se questo video ti è piaciuto, metti mi piace e lascia un commento. Attiva le notifiche cliccando sulla campanella accanto al tasto iscriviti se guardi questo video su YouTube oppure se lo stai guardando da Facebook, metti mi piace sulla fanpage e ricordati di cliccare sul tasto mostra per primi. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video e ciao! Ciao a tutti!